Sindaco contro sindaco Luigi De Magistris, primo cittadino di Napoli, attacca Ciro Borriello alla guida del comune di Torre del Greco, uno dei più grandi della campagna con 86.000 abitanti che nei giorni scorsi ha detto no all'arrivo dei migranti sul proprio territorio. Borriello è anche definito sindaco leghista lo scorso marzo e è andato a Napoli ad incontrare Matteo Salvini, esprimendo le sue simpatie per il movimento guidato dal leader del carroccio. Questa posizione, dice De Magistris, non gli fa onore, a parte che quella di accogliere i migranti è una decisione del lanci per cui tutti i comuni d'Italia devono in proporzione accogliere fratelli e sorelle che sono in difficoltà. Il sindaco di Torre del Greco che ha deciso di unirsi a casa Opound e Salvini è un'eccezione, il problema è il suo, credo voglia raccattare qualche voto. Dal canto suo Borriello rimanda ogni accuso al primo cittadino di Napoli. De Magistris parla ancora una volta senza ragione di causa, in questa circostanza la reazione dei suoi stessi cittadini è chiara. Basta scorrere i commenti alle notizie sulle sue dichiarazioni nelle varie pagine social network per capire che la sua vena populistica stavolta almeno non ha attecchito. Risponde così Ciro Borriello alle dichiarazioni rese da De Magistris in occasione alla questione dei migranti e alla presa di posizione circa l'impossibilità dell'amministrazione comunale di trovare adeguata sistemazione ai quasi 300 profughi in arrivo.